Buonasera, l'ultima volta devo dire è stato veramente emozionante perché io ho visto delle cose anche a casa ha suscitato veramente stupore vedere questi esercizi, queste manganellate. Questa sera che cosa ha portato? Questa sera abbiamo portato due esibizioni. Prima un'esibizione di Nunchaku, che è questo attrezzo che originariamente era utilizzato dai contadini giapponesi per battere il riso. Ok, allora andiamo a vedere, avviciniamoci. Ah, questa è un'esibizione meno violenta. Meno violenta, diciamo un po' più spettacolare magari, cioè di pura tecnica. Questo attrezzo veniva usato per mettere il grano? In Giappone, no, per battere il riso. Ah, per battere il riso, sì, sì, sì. Vabbè, anche i nostri contadini insomma non con questo attrezzo ma avevano dei pezzi di legno e battevano grano, grano turco, riso. Bravo, veloce! Vittorio Cera dell'Unione Vovinam-Vetvodau ci fa tradere questa esibizione molto bella.